inizio a sentire un profumino un odorino di inizio campionato qua si avvicina all'inizio del campionato e le squadre iniziano a a metterle cose in chiaro dopo le prime amichevoli un po così e così dove tutti erano un po preoccupati insomma ho sentito un sacco di amici napoletani preoccupati per questo pareggio della spalla secondo amichevole internazionale prima internazionale e seconda amichevole di stagione di stagione 4 a 0 perciò prego servito doppietta di osimen giusto per far capire che non si è dimenticato anzi che è sul pezzo qua ci vuole rinnovo ragazzi ci vuole rinnovo dai ragazzi buonasera 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 a tutti ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico nella casa del pane balun secondo video di giornata per chiacchierare un pochettino di questo 4 a 0 del napoli soprattutto per dire la nostra anche su questa ma dove li prendono i soldi questi qua non c'era possibile cioè è un qualcosa di clamoroso c'è Oliund per l'amor di da me piaceva anche molto per 85 milioni c'eravamo capito che lui voleva andare al manchester e sembrava cioè si sapeva che prima o poi sarebbe finita così ma 85 milioni per Oliund parliamone insieme dai ragazzi parliamone insieme dedichiamoci questi 10 minuti prima di andare a prendere il gelato qua canosa fanno un gelato pazzesco perciò adesso porto tutti quanti a prendere il gelato ci dedichiamo questi 10 minuti insieme prima però di cominciare vi invito subito ad iscrivervi al canale ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti mettete un bel like attino mi raccomando dai voglio un po' di like mettetemi un po' di like amici napoletani se siete contenti di questo 4 a 0 un po' di like e soprattutto ditemi la vostra nei commenti passate a trovarmi su instagram sul gruppo telegram andate nella descrizione di questo video ci sono i vari link e soprattutto andate nel primo commento venitemi a trovate sul canale dei Giargia che ci sono delle promozioni pazzesche perciò vi aspetto anche a dai ragazzi allora iniziamo subito voglio subito poi dopo parliamo anche della partita del napoli che insomma tanto ci aveva abituato a fare tutti quei gol volevo dire due cosettine appunto di Oliund adesso ragazzi per quanto a me piacesse questo giocatore qua nel senso che era un bel giovane lo vedevo molto cazzuto aveva fatto bene l'anno scorso Gasperini ha saputo farlo come si dice esplodere no? non l'ha subito buttato nella mischia poi a un certo punto ha conquistato la titolarità però sempre un pochettino senza fargli montare la testa insomma le qualità dei giocatori si sono viste fin da subito lui è molto molto forte adesso non so se sarà il nuovo Alland come tanti dicevano perché poi fare paragoni è sempre un pochettino pericoloso soprattutto quando i paragoni sono con certi mostri come Alland però lui è un gran bel Marcantonio forte cazzuto cazzuto no? proprio come con quella cazzima come vuole solitamente l'amico Aurelio De Laurentiis del Napoli bello cazzuto e a me piaceva molto ragazzi però da qua a spendere 85 milioni io capisco che l'Inpremiere veramente hanno talmente tanti soldi che per loro poi 85 milioni sono come per noi 20-25 perché veramente oramai vale tutto no? adesso al di là di tutto anche 80 milioni per Tonali secondo me sono stati folli perché Tonali per quanto a livello di cuore io adoravo Tonali, Milanista, tutto quello che volete però se parliamo solo dell'aspetto tecnico del giocatore effettivamente 80 milioni sono stati esagerati è stato giusto darlo ecco ma anche 85 milioni per Alland poi magari in un futuro ne varrà anche di più ma oggi per l'età che ha per quello che ha fatto ha fatto solo un anno diciamo nella serie A diciamo che conta ha fatto qualcosa in Europa non si è visto cioè vedi sono tanti 85 milioni cioè se tu spendi 85 milioni per Alland ma quanto vale Leao, Ozyman, Kwaraskelia, quanto valgono? cioè veramente è pazzesco oramai le cifre che girano sono cifre veramente da fuori di testa ma non solo in Arabia vedi anche in Premier loro veramente è snervante tutto cioè proprio snervante tu fai di tutto per cercare adesso per l'Atalanta sarà sicuramente contentissima perché secondo me da quello che ho capito forse è stata anche la vendita più alta che ha fatto nella storia il club secondo me l'Atalanta anche 50 milioni 60 milioni l'avrebbe dato via subito ma 85 milioni si sfrega le mani e non poco ragazzi perciò è tanta roba ragazzi il campionetto italiano è questa roba qua oramai i campioni o i futuri campioni vengono in Italia solo o a svernare quelli che sono a fine carriera o i giovani a cercare di mettersi in mostra per poi andare appunto in questi campionati è un peccato perché una volta eravamo noi in Italia a prendere tutti i giocatori più forti oggi siamo noi a doverli far crescere per poi vederli andare via come facevamo noi una volta è veramente un qualcosa di clamoroso spero che prima o poi cambiano queste cose ma poi insomma per farle cambiare bisogna non solo avere i sceicchi perché non è solo quello ma è proprio un po' tutta la cultura italiana che deve cambiare a partire dagli stadi dagli introiti di tutto vabbè poi faremo un video a riguardo arriviamo ragazzi poi ditemi la vostra nei commenti se secondo voi vale veramente 85 milioni o no perché secondo me è troppo arriviamo alla partita del Napoli che ho visto non ho compito però 4-0 ragazzi doppietta di Ozyman ha messo subito le cose in chiaro il Napoli dopo la prima dopo la prima Michele finita 1-1 con la Spal insomma qualche critica di troppo però sappiamo che il calcio d'agosto anche se adesso siamo ancora a luglio però il calcio d'estate è sempre un po' così sì c'è la preparazione di mezzo ci sono i giocatori che tornano dalle vacanze non tutti contemporaneamente perché magari qualcuno torna più tardi perché è stato in nazionale Under 21 è sempre un calcio un po' particolare poi noi che amiamo questo sport non vediamo l'ora di vederlo perché poi quando finisce il campionato passa veramente tanto tempo da quando rinizia e allora appena ci sono le amiche auli ci esaltiamo anche con la Spal ci nervosiamo perché è 1-1 però effettivamente insomma è il calcio un po' così adesso che si avvicina il campionato iniziano i giocatori a sentire profumo di partite vere di punti vere allora iniziano ad essere sul pezzo e si è visto fin da subito è vero che l'avversario del Napoli è un avversario che insomma è quello che è però insomma è pur sempre una partita internazionale quando incontri quelle squadre lì turche soprattutto che non conosci bene insomma puoi trovarti sempre la sorpresa di turno invece il Napoli non si è fatto assolutissimamente prende trovare sprovvisto e ha battuto tutto il proprio avversario per 4-0 doppietta di Ozymane e nel secondo tempo per non farsi mancare nulla ho visto che tutti quanti parlano sempre di altri questo qui diceva ci sono anch'io che ragazzi scusate ogni volta che entro faccio gol e quello è Simeone doppietta anche di Simeone soprattutto il secondo gol bellissimo dove dribbla due giocatori fa un pallonetto veramente molto molto bello insomma ragazzi il Napoli c'è ho visto mi è sembrato di vedere di captare una sorta anche di 4-2-3-1 del Napoli e poi è passato anche al 4-3-3 classico secondo me Rudy Garcia ha voglia anche non di cambiare non penso che cambierà il modulo tattico però vuole magari inserire appunto qualche altra inserire fargli come si può dire mettergli nelle corde anche un altro tipo di modulo perché poi a partita in corso puoi cambiare insomma io a me mi è sembrato di vedere un 4-2-3-1 l'anno scorso il Napoli ha fatto il suo 4-3-3 l'ha fatto talmente bene che poi quando una squadra va così bene fa così bene è sempre meglio non toccare nulla come è giusto che faccia anche Rudy Garcia non deve toccare nulla però è anche giusto che gli insegni anche a fare qualche qualche altro modulo che inizi a fargli entrare nella testa qualche altro qualche cambiamento perché può può capitare adesso il Napoli non è più non che prima lo fosse però insomma adesso è la favorita no? arriva da un campionato pazzesco lo hanno studiato per bene perciò le squadre cercheranno di prendere le contromosse è giusto che tu ti inventi qualcosa poi soprattutto essendo un allenatore nuovo Rudy Garcia nel Napoli è anche giusto che metta qualcosa di suo che non stravolga troppo lo schema tattico della squadra ma che però gli insegni pure a fare qualcos'altro perché può sempre servire mi è sembrato di cogliere questo di aver visto qualcosina del genere per quello che sono riuscito a vedere perché poi Sky vabbè lasciamo perdere Osimè l'ho visto molto molto sul pezzo ragazzi l'ho visto anche il primo gol che voleva quasi spaccare la porta l'ho visto proprio con quella con quella rabbia quella cazzima quella voglia di iniziare quella quella voglia soprattutto di rimanere io lo spero lo spero ragazzi perché inevitabilmente prima o poi dovrà succedere però spero che non succeda nonostante io non sia napoletano a livello di tifo anche se poi sono un un milanese originario pugliese ma con un cuore veramente napoletano perché sono un napoletano mancato sono milanista non tifo Napoli però mi dispiacerebbe non vedere più Osimè perché vedere delle belle giocate come non mi dispiacerebbe non vedere più magari Coraschelia piuttosto che Lobotka quando ci sono questi bei giocatori è giusto vederli e tenerseli stretti so che sarà difficile però insomma io l'ho visto molto molto volenteroso di rimanere e volenteroso di riprendere subito ciò che ha lasciato un mesetto fa è dura sarà dura quest'anno è già che il Napoli quest'anno non lo molla con lo scudetto lì bisogna fare qualcosa per poterci portare a casa sarebbe bello poi riuscire a batterli gli amici napoletani dai ragazzi allora io vado a prendermi un bel gelato qua a Canosa c'è il gusto per coca ragazzi non potete capire voi non lo potete capire il gusto per coca è un qualche sono solo a Canosa lo fanno il gusto per coca mai visto da nessun'altra parte è un qualcosa di clamoroso è buonissimo perciò me lo vado a prendere porto la mia famiglione a mangiare il gelato vi abbraccio di cuore a tutti quanti ci vediamo domani mi raccomando passate dal canale dei Jar Jar ragazzi fatemi questo favore guardate entrate nel sit fate fate un abbracione di cuore a tutti like e tini ci vediamo domani bye bye ciao ciao Grazie a tutti.